Nel gennaio del 2019 l'Economist dedica la copertina e l'intero numero al tema del globalization, cioè al tema del rallentamento della globalizzazione. Sostanzialmente l'Economist porta nel dibattito pubblico, un dibattito che invece era già in atto da diversi anni tra gli studiosi dell'internazionalizzazione. Di che cosa si sta parlando? Sostanzialmente del rallentamento della espansione della globalizzazione. Gli indicatori che lo dimostrano sono diversi. È diminuito il volume degli scambi internazionali, non in senso assoluto, ma è diminuita l'accelerazione della crescita di questi e dall'altra parte ne hanno risentito gli investimenti diretti all'estero. In questo scenario un ruolo fondamentale l'hanno giocato le catene globali del valore. Perché allora è interessante forse la questione del che cosa ne sarà delle catene globali del valore e che impatto avranno queste sull'economia del nord-est? Un paio di dati. Circa i due terzi del commercio mondiale sono generati dalle catene globali del valore. Quindi questo ci fa capire l'importanza di queste strutture della produzione, di questa organizzazione della produzione sul commercio internazionale. Se guardiamo al nord-est, una recente ricerca che fondazione nord-est ha condotto con Unicredit evidenzia un ulteriore elemento interessante. Quasi il 40% delle medie imprese manifatturiere del nord-est è coinvolta nelle catene globali del valore. Se allarghiamo l'orizzonte a diversi livelli di coinvolgimento arriviamo a due terzi delle imprese. Quindi il nostro è un territorio che da sempre ha avuto una grande apertura ed è molto coinvolto nelle catene globali del valore. Qual è l'evoluzione di queste catene globali del valore? C'è stata una fase lunga, 20 anni dagli anni 90 fino a circa il 2007-2008 alla crisi, di velocissima espansione. Perché è successo questo? C'era una condizione geopolitica favorevoli, la caduta del muro di Berlino, la Cina entra nel WTO e vengono fatti a livello internazionale una serie di accordi che facilitano non solo gli scambi di merci ma anche le transazioni di capitali e quindi gli investimenti diretti all'estero. La crisi del 2007-2008 in qualche modo rappresenta una spartiacque. Da quel momento in poi l'età dell'oro delle catene globali del valore si arresta, quindi siamo di fronte ad un cambiamento. Perché è avvenuto questo cambiamento? Mi piacciono le interpretazioni che vedono due fattori a pesare pesantemente su questo elemento. Da una parte l'aumento dell'incertezza. Si sa che gli investimenti, soprattutto quelli di lungo periodo, sono nemici dell'incertezza. Che cosa significa? Significa che politiche commerciali restrittive, il ritorno al protezionismo, la minaccia, a volte anche basta solo la minaccia del ritorno al protezionismo, spaventa gli investimenti di lungo periodo. Quindi anche nelle catene di fornitura internazionale. Perché? Perché investire in una catena di fornitura internazionale è costoso, è appunto un investimento. Allora l'aumento delle misure che in qualche modo riportano il protezionismo rallenta, introduce maggior rischio e rallenta l'espansione delle catene globali del valore. Dall'altra parte c'è un altro elemento interessante che ha a che fare con il digitale, con la tecnologia. Da sempre tecnologia e globalizzazione sono legate. Che cosa è successo? Anche qui espansione e disponibilità di nuovi strumenti che permettono di attuare l'automazione dei processi produttivi a costi decisamente inferiori rispetto al passato. Inferiori anche per un altro motivo. Le politiche monetarie espansive delle banche centrali in seguito alla crisi del 2007-2008 ha inondato i mercati di liquidità e quindi gli investimenti sono più economici. Questi due fattori, quindi da una parte la maggiore incertezza, dall'altra la disponibilità di ingenti capitali per finanziare a buon mercato degli investimenti in automazione, ha in qualche modo modificato le strategie delle imprese lungo le catene globali del valore. Che cosa è successo? Beh, si è avuto un fenomeno che viene definito appunto regionalizzazione delle catene globali del valore. In questa slide che evidenzio si capisce che cosa è successo, sembra complicata ma quelle linee rappresentano i flussi di beni intermedi, quelli che sono movimentati e alimentati delle catene globali del valore nei diversi continenti. La dimensione di questi flussi ci dà un'idea dell'intensità di questi scambi. È abbastanza evidente che nel tempo si sono affermate tre grandi aree manifatturiere, tre grandi piattaforme manifatturiere nel mondo. Il blocco tra Canada, Stati Uniti e Messico, dall'altra parte in Europa, l'Europa in senso ampio, appunto estendosi verso est, i paesi che una volta facevano parte del blocco sovietico e dall'altra parte il Medio Oriente, scusate l'Oriente, che in qualche modo vede non solo nella Cina ma anche nel blocco con Giappone e Corea, quindi una piattaforma importante manifatturiera. Questo è un esempio di regionalizzazione delle catene globali del valore. Le imprese che lavorano nell'automotive hanno ben presente questo tipo di struttura. Oggi i carmakers hanno piattaforme di assemblaggio che lavorano appunto in sincronia in queste tre grandi aree e quindi anticipo già alcune considerazioni, se si vuole partecipare a queste catene globali del valore bisogna essere presenti in queste tre aree come soffornitori. Su questo torneremo alla fine. Cercando di riassumere questo discorso in modo poi da avviare le conclusioni. Prima della crisi globale le imprese usavano sia le reti di fornitura internazionale, quindi investivano nelle catene globali del valore e contemporaneamente usavano l'automazione sostanzialmente anche ad esempio per sfruttare dei vantaggi in termini di costo del lavoro. Dopo la crisi che cosa succede? Dopo la crisi del 2007-2008 che queste strategie diventano alternative. Le imprese investono meno nelle catene globali del valore o disinvestono in alcuni casi, investono di più in automazione. Questo è il nuovo scenario per quanto riguarda soprattutto le questioni che riguardano le nostre imprese nordestine. Allora una prima questione. La pandemia ha cambiato tutto? In questi mesi abbiamo detto che tutto sarebbe stato diverso, che tutto sarebbe cambiato. Qualcuno ha detto bene questa è la fine della globalizzazione, si è parlato di deglobalizzazione, di sglobalizzazione. Questo dato però ci racconta una storia un po' diversa. È un indicatore che racconta la movimentazione di container nei 60 porti principali del mondo. È un indicatore anticipatore degli scambi internazionali. In questo grafico si evidenzia in rosso la caduta che è avvenuta per esempio nei porti cinesi. È stata una caduta molto importante, intensa, ma poi il recupero è stato altrettanto intenso e importante. Un andamento un po' diverso ma comunque che evidenzia lo stesso segno è rappresentato dai porti nel resto del mondo. Quindi in qualche modo le catene globali del valore hanno evidenziato una certa resilienza alla pandemia. Quindi questo è il primo risultato. Sono morte le catene globali del valore? La pandemia ha ucciso anche le catene globali del valore? Sembra di no. Questi sono i primi risultati. Dall'altra parte dobbiamo considerare che nelle scelte localizzative strategiche rispetto alle reti di fornitura delle imprese, incertezza, basso costo del denaro e nuove tecnologie influenzano in maniera un po' diversa rispetto al passato le scelte delle imprese. Come dicevo la pandemia probabilmente ha prodotto un'accelerazione dei processi già in atto ma non li ha modificati né stravolti completamente. Allora cercando di arrivare alle conclusioni e forse a qualche considerazione che potrebbe essere interessante per il nostro sistema produttivo, quello delle imprese nordestine, forse più in generale italiane e forse anche europee probabilmente, che cosa succede? Succede che il fenomeno della regionalizzazione delle catene globali del valore, attenzione, significa dover moltiplicare gli sforzi internazionali. Che cosa intendo con questo? Che se un'impresa partecipa oggi a una catena globale del valore che è regionalizzata dovrà essere capace, se vuole rimanere sul fornitore di questa catena, di essere presente in Europa certo, nel blocco che abbiamo visto prima del Canada, Stati Uniti e Messico, ma poi anche saper giocare anche la partita sui mercati in Asia. Quindi questo probabilmente moltiplicherà, porterà una moltiplicazione degli sforzi di presenza internazionale anche da parte delle nostre imprese che vogliono rimanere in queste catene globali del valore. Veniamo a due questioni che riguardano aspetti più organizzativi interni delle imprese. La pandemia ha evidenziato che probabilmente ancora qualcosa da fare, qualche investimento più in termini organizzativi interni, c'è da fare sui processi di gestione del rischio. Da questo punto di vista le nostre imprese, le piccole e medie imprese nordestine, probabilmente qualche investimento, qualche passo in avanti in più lo devono fare e quindi attrezzarsi per questo. L'ultimo elemento che riguarda una delle possibili risposte agli shock che possono colpire le catene globali del valore è quella della ridondanza delle scorte. Cioè in sostanza cosa si dice? Di fronte al timore di vedere interrotti gli approvvigionamenti a causa ad esempio di catastrofi naturali, pandemie e quant'altro, una delle possibili risposte è quella di aumentare le scorte di beni lungo con queste catene del valore. Sembra un paradosso, per anni abbiamo investito su processi di lean production, kanban e quant'altro per ridurre le scorte, che sono ovviamente un costo, è un'immobilizzazione finanziaria, adesso ci si sta ponendo l'obiettivo contrario, quello di avere delle scorte ridondanti. È un elemento interessante, è chiaro che questo ha un impatto da un punto di vista operativo ma anche economico finanziario molto rilevante. Allora credo che le imprese che riusciranno a porsi queste questioni e a trovare delle risposte e interpretare questi nuovi scenari saranno quelle vincenti appunto nei prossimi anni in questo contesto che probabilmente è diverso rispetto a quello ai quali siamo stati abituati negli ultimi anni.